ciao amici di gorizia tv guardate dove sono il presepio del convento delle clarisse in piazza sant'antonio bellissimo e adesso lo vedete e spero che andate anche voi e date un contributo ciao a tutti e auguroni mi hanno detto vieni a filmare che c'è un bel presepio con tutta la musica adesso guardiamo qua destra cari guardate un po' questo questa 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 musica me la ricordo venite a doremo quando che ero ragazzino con le suore in collegio bene adesso vado a vedere da un'altra parte questo è il convento del clarisse allora qua invece qua invece ci sono degli omaggi uno viene si riprende così si ricorda bene allora siamo adesso andati in un altro posto diciamo sempre il monastero delle clarisse qua piazza sant'antonio naturalmente adesso vi faccio vedere un altro presepio guardate un po' conviene venire a vedere gente perché è veramente molto bello a me ringrazio una mia amica che mi ha detto di questa informazione che lei ha detto viene ogni anno io devo stare attento perché qua è buio che non mi ritrovo da qualche parte ecco qua sento l'acqua ma non so dove praticamente non la vedo cari amici bene devo dire che è veramente molto bello e come vi dico vi conviene a fare un giro qua in piazza sant'antonio monastero delle clarisse io faccio un altro replay eccolo qua vado lentamente ecco adesso facciamo una panoramica e chiudiamo qua con il monastero delle clarisse e i loro presepi ciao amici torno non avevo visto qua c'è scritto offerte se volete dare anche un'offerta per anche per questo capolavoro che le clarisse senz'altro pregrano per voi e per noi bene questo è l'offerta chiudo qua cari amici gorizia tv